mmm senti qua gli assassini del microcosmo quando madre natura semina il terrore ma c'è sta la foto la sta a caricare l'incredibile scoperta nel borno ed alcuni ricercatori dell'università del michigan questa è la foto ma è una lumaga e che c'è da ninja ribattezzata ninja poiché durante il corteggiamento in grado di lanciare a distanza minuscoli tardi di carbonato di calcio contenenti ormoni come l'amero tanti ma non lo magari il bosco va ma vaffanculo va bastardi infami la colonna destra ci cascamo sempre comunque pronto ma